Quindi oggi 15 giugno 2024, adesso la sala continuale del Comune di Campi, con più che tutte le suddette operazioni che conformi fa, in base al quale è stato eletto sindaco il candidato alla veresima carica che ha ottenuto il maggior numero di voti e quindi il candidato sindaco del Comune di Campi è il dottor Federico Agostino. Il quale ha riportato il maggior numero di voti, cioè il numero 2894. Quindi voi, computer dei suddette operazioni, vanno a nominare i consiglieri eletti nella lista numero uno a tutto Campi e sono i signori Valentina Di Francesco, Pietro Polesimano, Caposfino Rapini, Antonio Cagioni, Pietro Adriano, Cristina Pastacquale, Cristina Pastacquale, Cristina Pastacquale, Luigi Giubalco. La lista numero due, volta Campi, sono state eletti i quattro consiglieri. Fabiana Naviani, Simone Iambieri, Alessia Di Giovanni e Marino Fiorano. Grazie. 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 grazie non è un discorso preparato non è un discorso preparato non è un discorso per il sito comunale restiamo seduti poi la posizione in via di Dio Ascherina non è quella mia abituale però volevo ringraziare intanto il presidente di Seggio la sezione numero 1 e tutti gli altri presidenti di Seggio sono state operazioni di voto andate benissimo nessun problema e vi ringraziamo perché non è mai un lavoro semplice soprattutto quando sono le elezioni comunali che sono sicuramente più sentite un grazie particolare ovviamente a tutta la mia squadra agli eletti ai non eletti che comunque hanno partecipato a questa competizione elettorale ai consiglieri eletti di minoranza che mi spiace che non ci siano qui oggi che però ho ringraziato già ieri durante i festeggiamenti e vi ringrazio anche oggi in consiglio comunale perché il consiglio comunale poi deve lavorare tutto ognuno nei suoi ruoli per il bene del territorio e quindi maggioranza e opposizione rispetto ai ruoli che voi cittadini ci avete ovviamente dato dobbiamo fare proposte continuare ad amministrare questo comune sempre guardando il bene di campo quindi mi auguro che anche il prossimo consiglio comunale sarà così sarà un consiglio comunale che migliorerà il nostro comune e quello che ci viene chiesto è quello per cui siamo stati votati ed eletti è una responsabilità grande essere consigliere comunale lo sapete bene voi che già ci siete stati lo sapranno benissimo anche gli altri che sono alla loro prima esperienza però credo che anche questa sorta di rinnovamento non ho fatto i conti su quanti nuovi consiglieri abbiamo però ce ne sono alcuni nuovi faccio bene al paese perché dopo 5 anni c'è una continuità amministrativa che però viene comunque apprezzata anche nell'ingresso di nuove figure io non mi dilungo ulteriormente vi comunico che il primo consiglio comunale lo faremo sabato 22 giugno alle 17.30 quindi vi aspetto al primo consiglio ringrazio tutti i cittadini per questa larga fiducia prendere il 70% dei voti dopo aver fatto un mandato vuol dire che 5 anni fa avevate la speranza di un sindaco che poteva amministrare il territorio oggi avete dimostrato con questo vostro consenso che avete avuto la certezza di un buon governo non ce l'avrete ve lo assicuro anche per i vostri cittadini grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti